E adesso traduciamo un messaggio dall'altro lato del velo. E questo messaggio è semplice. E' amore, perché tutto quello che viene a noi dall'altro lato del velo è basato sull'amore. Voi siete amati immensamente. Queste sono le parole di Kryon. Come vi fa sentire sapere che siete amati immensamente? Non c'è nulla che dovete fare per avere questo amore. Semplicemente siete parte di esso. Dentro di voi c'è la scintilla divina di tutto quello che è. E non c'è nulla da fare. Non c'è nessuno da compiacere. Semplicemente accettare ed essere in questa vibrazione dell'amore. E così vi invito a chiudere i vostri occhi se non li avevate già chiusi. E portate la vostra attenzione di più nel vostro centro del cuore. Sentite, intuite, immaginate questo battito di cuore, pulsante, d'amore. D'amore che viene dall'altro lato del velo. E' sempre lì per voi. Non c'è nulla da fare. Nessuna cosa dov'è essere. Semplicemente essere in questa zuppa d'amore. dove noi invitiamo l'energia di Kryon a farsi avanti. Vi saluto, miei cari. Io sono Kryon, del Servizio Magnetico. Voglio parlarvi di nuovo della vostra magnificenza. Cari miei, voi tendete a dimenticarvi del Creatore dentro di voi. E questo è il messaggio che voglio darvi. In base alle domande che sono state poste anche in questo programma, e in base a quello che io so sulla natura umana, voi dimenticate qualcosa. Oppure non l'avete mai saputo. Ed è qualcosa che avete bisogno di sapere. L'essere umano cammina su questo pianeta in uno stato insolito. E questo stato è quello di neutralità con cui arrivate qui. Voi avete il libero arbitrio. Ed è così che è stato progettato. Potete andare ovunque vogliate con la vostra coscienza, con il vostro credo, con le vostre azioni. E non vi saranno conseguenze dopo che starete morti. E non è quello che vi è stato insegnato. Questo fa parte del test della coscienza in generale degli esseri umani. Dove andrà questo pianeta se lasciato solo, in un'atmosfera di luce e oscurità, di dualità? Cosa sceglierà di fare? Abbiamo già risposto profondamente a questo, molte volte. Voi ora vi trovate in quello che si chiama cambiamento, e il Covid ne fa parte. È quasi come un riavvio per risvegliare le cose che sono le più importanti per voi. E tutto questo è perché l'umanità ha scelto di spostarsi in una vibrazione più luminosa. Vi abbiamo detto questo. E questo accadde nel 2012, ma in realtà iniziò molto prima del 2012. Cari miei, il mio partner è stato qui 32 anni perché io arrivai per raccontarvi questo. Vi ho parlato del cambiamento della griglia magnetica, che era necessario per far parte di una nuova coscienza, perché è tutto collegato alla Terra, al magnetismo della Terra, agli esseri senzienti, a madre Terra. E vi ho detto che la coscienza avrebbe iniziato a cambiare. La vecchia oscurità della vecchia era sarebbe diminuita. Sarebbero arrivati nuovi pensieri di integrità superiore, su come vi trattate a vicenda, e su cosa davvero volete in questa società, la fine delle guerre. E tutto questo avrebbe iniziato a cambiare gradualmente. L'avete visto molti anni fa. Io arrivai proprio in quel frangente in cui il muro di Berlino cadde. Se mettete insieme queste cose, allora capirete perché sono venuto. Per guidarvi verso una vibrazione superiore. Ecco perché sono qui. Per raccontarvi cose che avete bisogno di sapere. Ecco perché sono qui. E la prima cosa che voglio dirvi è questa. Mentre aumentate la vostra consapevolezza su tutte queste cose esoteriche, mentre partecipate magari al cerchio del 12 e iniziate a riconoscere, a credere, a conoscere e a vedere le cose che vi stiamo dicendo e iniziate anche a capirle di più, mentre fate questo, accade qualcosa. Non vi farò un esempio metaforico, ma vi darò una metafora concreta che non dimenticherete. attorno a voi avete una bolla di luce protettiva. Più riuscirete ad avere pensieri elevati, più chiederete di essere consapevoli, più chiederete di capire l'amore del creatore per metterlo su di voi e praticarlo nella vostra vita, più forte diventerà questa bolla. Pensatela come una bolla di luce. E mentre andate da un posto all'altro, le cose oscure rimbalzano sulla bolla. Capito? Questa è una metafora, ma è la migliore che ho. Quindi, mentre procedete, non importa dove siete o cosa fate, c'è questa vostra bolla consapevole, operatori di luce, che fende l'oscurità e non permetterà all'oscurità di entrare, specialmente se state praticando la compassione, l'amore del creatore. È come se state assumendo e assorbendo più di quel divino che vi è stato dato alla nascita e che ora state iniziando a vedere. Non lo sentite? Vorrei che capiste che questa è una forma di protezione e non è interessante che la vostra protezione dipenda da come la pensate. Non proviene da un'altra fonte. Angeli e guide non vi stanno facendo la guardia. Viene da voi. Forse è insolito pensare che funzioni in questo modo, ma è sempre stato così e sempre sarà. Una delle domande poste oggi diceva le entità maligne esoteriche e fisiche possono attaccarsi a me. Devo stare attento a queste cose, a dove vado, a cosa dico. Vi dirò, cari miei, che le entità maligne deputate a questo vi vedranno arrivare e cambieranno strada perché voi avete questa bolla di luce e loro non vogliono averci nulla a che fare. Ricordatevi una cosa ed è un'altra metafora, una bella metafora. L'oscurità è definita come assenza di luce e finché non c'è luce ci saranno molte cose oscure, ma non appena la luce entra in questo quadro l'oscurità viene cancellata. Se c'è una stanza buia, piena di oscurità e di cose che compaiono nella notte, non appena accendete la luce scompaiono perché non possono esistere. È la loro definizione. L'oscurità è l'assenza di luce. Accendete la luce e scompare. L'oscurità non ne vuole sapere di voi, non vuole avere nulla a che fare con voi perché può vedere la vostra divinità. ovunque andiate essa scompare. Il mio partner ha ricevuto questo esempio tante volte. La prima volta che fece una conferenza alle Nazioni Unite a New York City, gli era stato detto da qualcuno che avrebbe dovuto saperlo che se si fosse presentato lì sarebbe stato attaccato dall'oscurità. Lui ci andò e quello che scoprì quando andò lì fu la più bella, meravigliosa luce e supporto che abbia mai ricevuto. Andò lì impaurito perché non era mai stato a New York, non era mai stato alle Nazioni Unite, non sapeva cosa aspettarsi, ma ovunque andò fu accolto e amato. ed è lì che lui capì che nessun veggente è nel giusto quando dà un messaggio di paura, non importa il suo aspetto o le capacità e le esperienze che dice di aver avuto. Lui è stato protetto dalla sua stessa luce ed è stato così da allora. Siete voi, cari miei, questo è il principio di luce e oscurità, cari miei. Quindi vorrei che voi capiste questo e trattenetelo a voi, comprendetelo, prendetene atto. In altre parole, fate nel vostro credo così che ovunque andrete non dovrete neppure chiedervi se siete in pericolo per l'oscurità o no o se c'è qualcosa in agguato. È l'opposto. Là dove voi passate, loro non potranno passare. Capito? E con questo voi potrete aiutare gli altri quando entrerete in un luogo dove magari c'è paura o ci sono state discussioni o parole non gentili. Voi aprite un barco. A volte le persone sono spaventate di qualcosa, poi arrivate voi e in qualche modo si sentono in pace. Vi è mai capitato che la vostra presenza renda le persone davvero felici che siete lì. a volte vengono da voi solo per stare nella vostra bolla e voi non sapete perché. Questa è una verità. C'è molto da dire su questo. Ci sono molti esempi che potrei darvi in cui il mio partner ha visto questo. Lui sa che è assolutamente vero e lui non ha paura di dove camminare o di dove andare e va avanti perché lui ha quella bolla. È la sua divinità, la sua stessa divinità. Non ci sono un entourage o angeli protettivi davanti a voi. Questo è il potere della vostra magnificenza. Questo è il potere della vostra divinità e in questa nuova energia cari miei sta crescendo. In altre parole è più profondo oggi di quanto sia stato prima perché l'energia su questo pianeta ora promuove e coopera con la luce. Vedrete alcune cose in questo anno della rivelazione e vi domanderete perché così tante tessere stanno cadendo così velocemente quando in passato non l'hanno mai fatto e ora lo sapete. Ho appena risposto a qualcosa che potrebbe accadere nel vostro futuro. Inizierete a vedere come il mio partner ha sempre detto che questo non è il mondo dei vostri nonni. Questo è diverso. alcune delle cose che sono rappresentate su questo pianeta ora fanno parte del mondo dei vostri nonni ma non dureranno e saranno scioccati quando lo scopriranno. Questa, cari miei, è una nuova era, un'era di illuminazione, una promessa in cui la luce inizierà a vincere. Fatene parte. comprendetela. Ringrazio le tantissime bolle di luce che stanno ascoltando e guardando. Siate benedetti per la vostra comprensione di essere di più di quello che pensate e di appartenere a qualcosa di molto più grande di quello che abbiate mai pensato. Io sono Kryon innamorato dell'umanità e così è. Grazie a tutti.